Ah, ecco, oggi non vai con Angelo, oggi vai con lui. E' uno nuovo, lo devi informare tu. Non sono sposato, non ho figli e vivo da solo in un cesto di casa. Quindi fammi vedere come si fa sto lavoro del cazzo e poi amici come prima. La prima fase consiste nel rintracciarli e poi dire il tormento. Dottor Caprella! Senti, stronzo, non smetto di seguirmi! Il tormento, quello vero. Basta! Questa è casa mia! Nella fase 2 in cosa consiste? Per farli vergognare. Mi sta formando uno dei migliori sulla piazza. Non lo so. Ma non ce la possiamo togliere questa? No. Ma perché? Ma così mettiamo più paura. Non hai nessuno? Non ho più nessuno. Ho fatto delle cose tremende. Per stare dentro al sistema, devi avere un po' di sistema dentro di te. Senti, tu una volta mi gesto, ma della parte più dura di questo lavoro è questa. Non farsi pericolgere. Non c'è oggi il nostro pane quotidiano e rimettiamo i nostri debiti e noi rimettiamo i nostri debitori. non c'è oggi. Non c'è oggi.